Sei linee di azione contro lo spopolamento che dovranno portare con sé anche investimenti e battaglie nelle sedi opportune. La provincia propone le proprie idee per cercare di frenare lo spopolamento. Nel report presentato al ministro delle affari regionali Francesco Boccia, in questi giorni anche ai sindaci, si parte dai dati con la previsione del primo tuffo sotto la soglia di 200.000 abitanti entro un quinquennio e termina con le sei idee. Al primo posto, almeno in ordine e disposizione, c'è il lavoro, quello qualificato, legato alle evoluzioni della tecnica e della tecnologia, se non addirittura allo studio che provoca le evoluzioni stesse. Alta specializzazione e sperimentazione tecnologica per trattenere le imprese e attrarre investimenti. La priorità è questa ed è anche la strada ipotizzata dalla provincia che guarda con favore il coinvolgimento del mondo della ricerca, CNR incluso. Seconda linea di azione, mantenere gli operatori del settore primario nel territorio, a partire dai lavori post via per accoppiare il ragionamento di filiera e manutenzione della montagna. Terzo, utilizzare i mondiali olimpiadi cortinesi come testa da riete per un sviluppo turistico, complessivo e coordinato, ispirato al modello Trentino e Alto Tesino. Il quarto punto è una conseguenza di questo. Vanno sviluppati servizi e infrastrutture e per Palazzo Piloni sono i collegamenti ferviari diretti con la pianura e le grandi città, lo sviluppo dello scorrimento veloce lungo la strada della sinistra piave e il potenziamento della gordina, internet e servizi collegati in tutti i punti di pubblico interesse. Chiudono la lista delle azioni, gli aiuti strutturali alle famiglie e il governo del futuro dei servizi rifiuti e energia, con un unico gestore per la raccolta e lo smaltimento in tutta la provincia e un programma per una gestione provinciale delle grandi concessioni idroelettriche in scadenza nel 2029.